forse dal titolo del mio video di oggi non hai ancora capito l'argomento che voglio trattare prendo sempre in giro le mie clienti su questa cosa hai presente il saluto della regina elisabetta quello con il braccio ingessato a 90 gradi con il gomito alto dove muove solo la mano con una leggerissima rotazione del polso e della mano alle mie clienti dico sempre se non tonifichiamo un po' quel tricipite va a finire che poi dovrai salutare come la regina per non fare vedere quel budino flaccido che ti ritrovi sotto il braccio forse è conosciuto anche come prova del sale quando a tavola fai il gesto di versare il sale sul piatto scuoti il braccio e se questo non è abbastanza tonico inizia a ballare tutto quella parte flaccida che si trova nella parte posteriore e inferiore del tuo braccio si muove come un budino appena sfornato diciamo che su 10 donne 11 mi chiedono di allenare questo muscolo cioè il tricipite allora oggi voglio spiegarti come porre rimedi a questo incubo e darti la possibilità di versare il sale a tavola con serenità anzi non vedrai l'ora di farlo per farti vedere dalle tue amiche sedute a tavola come sempre a me piace non solo spiegarti la parte finale quindi gli esercizi che dovrai eseguire ma farti capire quello che ci sta dietro farti capire perché devi fare determinati esercizi e come li dovrai fare devi sapere prima di tutto che il tricipite è un estensore del gomito ed è composto da tre differenti fasci muscolari il capo laterale il capo mediale e il capo lungo quindi solo per il fatto che il tricipite è composto da tre differenti muscoli significa che per stimolarlo in modo ottimale dovrai lavorare in modo differenziato per ogni fascio muscolare ci sarà un esercizio specifico da eseguire per capire meglio questo devi conoscere l'inserzione di questi muscoli il capo laterale e il capo mediale originano a livello dell'omero e si inseriscono a livello dell'olecrano dell'ulna mentre il capo lungo del tricipite si inserisce sempre sull'olecrano dell'ulna ma origina dalla scapola quindi da questo deduciamo subito una cosa molto importante che il capo lungo del tricipite è stimolato maggiormente quando la spalla è in flessione come ad esempio in questi due esercizi mentre per stimolare il capo mediale e laterale del tricipite dovrai eseguire un movimento molto differente quindi se vuoi tonificare i tuoi tricipiti il primo consiglio che voglio darti è quello di variare gli esercizi che andrai a fare in modo da allenare tutti e tre i fasci muscolari del tricipite in modo completo magari variando ad ogni allenamento il secondo consiglio invece che voglio darti riguarda il metodo di allenamento quindi il numero di serie e ripetizioni per stimolare al meglio i tuoi tricipiti se appartiene alla categoria tricipite a budino ti consiglio di partire con un solo esercizio ad allenamento per i tricipiti lavorando con tre sergi da 15 ripetizioni supponendo tre allenamenti settimanali lunedì andrei a fare un esercizio per il capo lungo del tricipite mercoledì andrei ad allenare il capo mediale ed infine il venerdì andrei ad eseguire un esercizio per stimolare il capo laterale del tricipite in questo modo allenerai e stimolerai in modo completo tutti i fasci muscolari del tricipite nell'arco della settimana superata questa prima fase diciamo budino rientrerai nella categoria normotono quindi potrai iniziare a lavorare più intensamente mantenendo sempre un numero di ripetizioni medio alto cioè compresa tra le 12 e le 15 ripetizioni però aumentando il carico di lavoro di circa il 30 per cento rispetto a prima oppure diminuendo il numero di ripetizioni diciamo da 5 a 8 ripetizioni per lavorare maggiormente sulla forza ed in questo caso ovviamente dovrai utilizzare un carico di lavoro maggiore circa il 50 per cento in più rispetto a quello che hai utilizzato nella fase iniziale inoltre in questa fase potrai eseguire più di un esercizio per i tricipiti ad allenamento in modo da raddoppiare o triplicare lo stimolo settimanale per i muscoli del tricipite terminata quest'ultima fase passato qualche mese potrai spoderare un tricipite notevole fiera di versare sale a tutte le tue amiche a tavola e non sarai più costretta a salutare come la regina elisabetta anche per oggi è tutto ci sentiamo presto e buon allenamento ciao 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 Grazie.